Musica 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 Sì, io c'ho la carta diretamente, io non si faccio. No, ma io prima ero più mischiata, allora andava a dire. Questa è la buona, 8 su 8, e mi sapeva di... No, io le stavo becchia. 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 Eppure mi si, io andavo in Firenze. Ma che buona, mi si stava becchia. Mi si aspettava di un po' Per lui e gli stavo becchia. Mi si aspettava di un po' Ma glielo delle, non guarda che è Buenos Aires. Grazie. Grazie. Ma tu sei Mbappé? È Mbappé. Viste Mbappé è il fatto Mbappé. Viste Mbappé è il fatto Mbappé alla sinistra. Viste Mbappé è il fatto Mbappé. Chi te l'ha detto? Vapera, ma no. Cagliabbianchi? Cagliabbianchi! E' fuma, e' fuma, e' fuma! E' fuma, e' fuma! E' fuma, e' fuma, e' fuma, e' fuma, e' fuma! E' fuma, e' fuma, e' fuma! E' fuma, e' fuma! E' fuma, e' fuma! E' fuma, e' fuma, e' fuma! E' fuma, e' fuma, e' fuma! E' fuma, 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 e' f E lo so, coca colastico che è fantastico. Ero lì che dice no, non ho incontrato in giù. E' un grande, non lo ricordi? All'inizio l'anno scorso, mi guardavo mentre si beveva il gherdi. Coca colastico, ma cazzo. Dove è questo? La collezza? La collezza? E mea! Anche la collezza? Non lo voglio niente. Mister, ma dopo questo ci si va a riscaldare? Dove? In Italia. Sì. Mezz'oretta e poi... Ciao, ma lesci! Mister, la ciao! Facenzia! Ciao! Ciao, ciao! 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 E' stato! Buongiorno! 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 Mister, ma per la finisce questa, si va a dire? Mi sento trovato 20 cent Ma quelle sono miei Scusate Bevo di questo per la città No Mi chieda Ah per la finita questa ti avrete Guarda Mister Forza l'ora Domani Domani Ah no, sono di guardare i dati! Mister, c'è il mio amico! Lui ho contato l'altro scopo si sta bevendo una beatrate e lo guarda, lo saluto e lui mi può abitare E come si fa? Guarda che cazzo! Francesco Totti! E noi facciamo cos'è E lui fa fantastico! Poi l'ho incontrato e lui diceva Oh che casino che sei un bambino! E state assalzando a me! Ma facciamo pure! Mister, ma domani sono già la mattina! Dalle 10.30 Ma quattro partiti ci sono domani? Due! No, due più il pomeriggio altre due! Con quattro partiti? Mister, quattro partiti? Mister, sì! Domattina alle prime due finisce il girone e poi altre due... Finita a mezzanotte e a mezzanotte Ma stasera... Oh raga, raga! Stasera viene... In stasera viene il progetto per vedere la... che mai? Sì! No, no! Vado su! Oh raga, allora faccio passanti! Oh gamba, domani mi sa che però... Izzo, Izzo... Ma lui non ti vuole! Izzo... Izzo... Non vedete qui! No dai... Non è drin E la vera... Chi vuole? Non è eso, non sai via! Vi sono... Izzo, se non c'è... Non lo so... Non lo so... Non lo so... Non lo so... No... No... Non lo so... e viene anche una rossa il suo è vero il suo è vero il suo è vero ma cosa c'è? quella che partita nel primo è il primo è il primo è quella che è vero grande grande è il comando oh è bello non so se si può cambiare sull'uomo mi stai mi stai mi stai mi stai però il gioco è bello no potevo farti più ma ovunque no mister ma è da egoistico è da brutti cattivi in realtà è il calcio è un gioco di posizione è un gioco di movimento quindi se io dipendo palla la do a Mokali la do a Mokali e lui tiene una bomba messa a lui e fa il gol tutto l'incrocio è merito sia mio che Mokali poi il gol di Mokali era un mio velo era un mio velo era un mio velo è gol tuo è merito mio mi stai guantando mi stai guantando mi stai guantando mi troppo sempre ma che poi non si può correre oh pallone sono andati a riprenderlo alle case io non dovrei ridere stai fermo vieni 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 chiamo il trisce chiamo il trisce dai io andate a farci questo gol bravo bella ragazzi sono orgogliosa di voi la Germania la Germania la Germania la Georgia ha vinto la partita di Nanguera sopra perché fra la Georgia e non ce l'abbiamo fatto nel mondo oh calma la scuola che stava metti con il mio vizio 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 ma anche su FIFA ma chi c'è qua la scheda fa 152 la scuola la scuola miglior miglior no vizio ma c'è qua il mio vizio ma c'è qua io non ho visto ma c'è qua la scuola allora poi ho fatto più di 40 gol vabbè 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 vizio vabbè il primo gradino Sė avete visto avete visto il colco di testa cosa ha fatto? la scacciata la presa ma poi l'ha presa sfronti ma perchè non ho scacciato la testa vabbè Miau, miau! Cosciane! Oh, coglione! Giuro, se ti faccio male, però non piangi, eh! Che bella brutta! Il Torino ha tirato la vita a campo. Quest'anno io ho fatto anche perché è meglio. Guarda, i cartoni li ho allenato io, tirato la vita a campo. Chi è il Torino? E' una brutta! Un colpo! Un colpo! Un colpo! Chi? Cispa! Fuori dal tiro! Cispa! Cispa! Eh no, ve la metto! Perché io ho potuto il colpito incorrere con lei per il Sanito, in segno. Cispa col col tiro! Io ti offro le cose, io ti offro le cose per così che mi chiedono. Guardi chi scherza, Cispa, resta, guarda il team! Esce Conti Tomaso! Esce Conti Tomaso perché fa schifo e non si prende! E' una torta! E' una bussa! Ed è la colpa! E' sempre si un26e, la regola... Unice e comunque le intenzioni di corio! Ma sai, ti conti a Monti! Grazie a tutti. 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 Voglio tutto il tipo per me. Tutto il tipo. Grazie a tutti. 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 Alex. e... e... più assist. e... 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 vai... e... e... ... 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 ......